Siamo pronti, eh? Siamo pronti. La rincorsa breve, Snyder in porta, la palla di poco sopra l'incrocio di Paglia. Si accentra Maikon, cerca la percussione, chiede l'1-2, Motta, zara tiro, Tiago Motta, porta il tiro, pulso, strabitose in calcio d'angolo. Panderberg, grande palla per Eto'o, capo aperto, è partito Eto'o, può chiedere Cannavaro, Eto'o può puntare verso l'aravversaria, Eto'o l'ingresso in area di rigore, Eto'o è chiuso, si accentra, la conclusione viene verificata da una grande copertura di Sissoko. Quando è recuperato da Samuele, ancora alta la difesa della Juve, c'è lo scatto di Milito, va a chiudere Chiellini, attacca uno spazio a Pander e a Snyder, Milito, palla dentro, pulso! Colone Bono a Berito, accella a Ritolo, in seguito il Piero, dentro per Cambiasso, a limite c'è Snyder, Snyder, il tiro, pulso! C'è la Rozzanetti, subranca Sissoko con la stand, calcio di punizione, Sissoko attenzione, era stato armonito e finisce qui la partita di Sissoko, espulso Sissoko, Juventus in dieci. Pallone che arriva nella zona di Diego, quasi nella zona tiro, arriva a rimorchio, Colsen, scoppisce male, balla distante da parte di giro Sissoko. Errore di Diego, parte l'Inter, l'apertura di Pandev, Cannavaro chiude il stretto, se ne metto, è togliere il rigore, è giù, palla fuori! Cerca ancora Maikon, chiude Grosso, poi Maikon, ruba il pallone, con sbasso Milito, palla fuori di un soccchio! Stankovic apre a terza per Maikon, c'è Grosso su di lui, pronto a raddoppio Marchisio, l'inserimento di Stankovic, manda in percussione, Stankovic, parte il tiro! Pronto Snyder, palla per Balotelli, in seguito palla Milito! Palla, gol, colamorosa per Milito! Milito vuole fare tutto da solo, poi cerca Snyder, al limite, Snyder il tiro! La palla di poco sopra la traversa Parte Snyder, tutti a vuoto, attenzione, Milito gli toglie il pallone, Felipe Melo Poi Maikon in palleggio, Maikon ancora, parte il tiro, in rete, in rete, un gol straordinario di Maikon, l'intero in portaggio! Ricorso a breve, parte Balotelli, palla che gira, incrocio le pali! Il pallone per Eto' Lo chiude in due, velo, cambiasso, al limite, cambiasso, parte il tiro! La palla carezza, l'incrocio le pali va sul fondo Parte Diego, palla che gira, Giulio senza, l'ha porto dall'incrocio! Finito al limite, c'è Balotelli libero a sinistra, pallone per Balotelli, in area di rigore, il tiro sporco di Butari, è toro, è toro, in rotazione all'Inter! Grazie! 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 Grazie!